Possibilmente... eh, ecco, signora, a più piacere, si può aiutare... No, volevo chiedere qualcosa! Sì, sì, però, eh, sì, chiedeva, ma è quasi male... Eh, canti, me l'ha dato... Scusi, ma è così grave la tua macchina? No, 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 è così grave, ma non è grave la tua macchina! No, 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 non è così, ma non è grave, ma è così! No, 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 non è così, ma non è così, non è così... Sì, sì, ma non è così... Mi sono lei, lei non è stata chiamata, lei non ha idea, io ho 5, ma non è così... Ma non so come chiedevo, pochi erano i vederatori, guardi, mi hanno mandato da per... Ma non è che posso mi bere quattro cinque? Non è che ne ho fatto, non è che ne ho prego, per cui tranquilla, signora... Ma io la porto con tutto sello per vedere questo film, adesso non ho fatto la mia macchina, ma... Signora, non ci vediamo male, se il quattro film è, non so io... È un film vero, io per fin dello mio che è così, ne ho provato di vederlo, ma... Ma no, 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 no... Dai, bravo, dai, bravo, seca, 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 seca... ma che cosa c'è a un mondo da qualsiasi figli no sono numerati i posti si, 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 si è di qua fatto un super occupo no, perché lei si vede ma è e gli spingue i spingue i carri stanno usando il suo gioco e perché ci sono dei contanti no, no, quel carri è stato a guardare il suo gioco dobbiamo andare è una sorta di piccolo reale si, forse che non lo vuoi vedere se non vuole il suo gioco ah, non lo vuole, non lo vuole ah, non lo vuole, non lo vuole signore guardi, non lascio tanto direttore e non c'è del paura Sì, mi scusi posso fare un attimo in qualcosa che è stato davvero facile e gli stai, signore Sardegna gli stai, signore Sardegna gli trasmettiamo da Cima Lodeo da Cima Lodeo di Padova da Cima Lodeo di Padova abbiamo una pericolosissima terrorista che si barricchia all'interno di una sala e di non stare su un artificiere un cane e un'olimpiota grazie 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 grazie